Io voglio ora raccontare una storia a chi lo faccio mettendo poco paura Ragazzi buongiorno, mica qualcuno di voi mi sa dice che cos'è la cosa più veloce del mondo? Che cos'è la cosa più veloce del mondo? Metà di voi, metà di Se qualcuno ha un'idea, lei sponga prego, potete sparare, sì anche voi ma Sparate, sparate, dite, qual è la cosa più veloce secondo voi? Dite, dite Sto orecchie aperte Orecchie aperte, no no, che ho orecchie Il battito di ciglia Il battito di ciglia, sì bene, potrebbe essere ma io ti dico di no C'è senz'altro qualcosa di molto più veloce del battito di ciglia, io lo so Ma voglio farvici arrivare pian piano, forza qualcuno sa dirlo? Qualcuno ha il coraggio? Io vi dico che c'è E che cosa sarebbe più veloce del battito del ciglio? Nessun altro vuole provare allora? Ci sono altri tentativi? La luce Penso che c'è qualcosa ancora più veloce della luce, combà E infatti, compari, sì, c'è qualcosa di ancora più veloce, vediamo se forse lo hai capito Penso che a più veloce della luce c'è Rubensier Rubensier, esatto ragazzi, abbiamo colui che ha forse indovinato Cioè, bravo, combà, tu mi sa che si capite, però io ti dico una cosa, combà Non potremmo mai essere sicuri di quello che è più veloce del mondo Cioè, per esempio c'è una cosa più veloce che non sappiamo Ve lo dici che è più veloce della luce, del battito, del pensiero, tutto messo assieme C'è qualcosa di più veloce di queste tre cose messo assieme? Sì, è la cagarella, combà Calata sera, non sono fatto a te, ma manca a aprir gli occhi Ha pensato a apacciare la luce che già mi aveva cagato sotto Oppa la marasca!